Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Grande spazio naturalmente nell'aula di Palazzo del Pegaso nelle ultime sedute al tema della drammatica alluvione che ha colpito la Toscana causando morti e devastazioni. A questo proposito il Consiglio regionale ha voluto osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragica ondata di maltempo, ma non solo. L'argomento è stato toccato anche con alcuni provvedimenti richiesti dall'aula come la contestazione da parte delle opposizioni a quanto fatto a livello di prevenzione. Per questo è stata richiesta una commissione d'inchiesta da parte delle opposizioni in Consiglio regionale che hanno contestato pure la nomina del governatore della Toscana Eugenio Gianni a commissario per la gestione dell'emergenza. Ma vediamo tutti gli interventi nel nostro contributo. Un minuto di silenzio per le vittime dell'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la Toscana è stato osservato dall'aula di Palazzo del Pegaso con il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha elencato in apertura dei lavori tutti i nomi delle persone decedute a causa dell'alluvione. Vicinanza a parte di tutta l'assemblea legislativa alle tante donne e ai tanti uomini che in queste ore sono a spalare il fango nelle proprie case, nelle proprie imprese noi dobbiamo a loro tutta la velocità delle nostre risposte noi come regione faremo la nostra parte sono certo che anche il governo farà la propria parte bene ha fatto a nominare il Presidente Gianni commissario per l'emergenza però oggi è la fase dell'emergenza io già guardo a quello che succede dopo alla fase della ricostruzione perché ho detto che le risposte vanno date in tempi certi e allora mi auguro che il governo anche in questo caso faccia la scelta giusta nomi il Presidente Gianni commissario anche per la ricostruzione perché il Presidente Gianni conosce bene la Toscana ed è in grado di lavorare insieme ai prefetti insieme alla protezione civile insieme ai sindaci a cui va un grande ringraziamento nella direzione più rapida noi dobbiamo dare risposte alle imprese che stanno soffrendo e anche alle famiglie io in questi giorni ho girato tanto la Toscana e ho visto famiglie davvero sulle ginocchia ho visto fango dentro le case e ho visto la voglia di avere risposte in tempi certi e concreti per cui questo è quello che noi dobbiamo fare della tragica alluvione che ha travolto la Toscana ha parlato anche il Presidente della Regione Eugenio Gianni intervenuto con un'informativa in aula per fare il punto della situazione sull'emergenza che lo ha visto incaricato come commissario delegato io ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre del 1966 il giorno dell'alluvione di Firenze e queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte che ha visto per morire 8 persone oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango sono quelle dello smaltimento dei rifiuti sono quelle dello smaltimento dei riquami degli spurghi sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile delle nostre operatività sulle strade sulle piazze, sugli argini dei fiumi sui ponti ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato le forze dell'ordine coloro che tecnici della protezione civile dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere nella nostra forza dopo l'informativa del presidente della Toscana Eugenio Gianni in aula si è aperto un ampio dibattito con le opposizioni che hanno chiesto tra le altre cose di destinare agli alluvionati parte delle risorse della variazione di bilancio e di istituire, finita l'emergenza una commissione di inchiesta sull'accaduto non è una commissione di inchiesta fatta per puntare il dito contro qualcuno o contro qualcosa ma io credo che con tutto quello che è successo nella nostra regione l'unica cosa che la politica possa fare per i nostri concittadini e le nostre concittadine che ancora oggi vivono situazioni drammatiche sia provare a rispondere con la verità che vuol dire? vuol dire che chiunque di noi in questi giorni abbia messo il naso fuori di casa è stato fermato ricevuto telefonate bussato alla porta da persone che giustamente con la disperazione e la rabbia di chi vive questa situazione prova a trovare una spiegazione le domande sono ma non potevate far di più come Regione? ma la protezione civile chi la coordina? erano scoordinati io ho chiesto aiuto sono arrivati dopo due giorni io sono stato tre giorni senza luce e senza acqua non potevate rimetterla prima? io pago la tassa di bonifica al consorzio tutti gli anni cosa ha fatto il consorzio fino ad oggi? queste sono le domande che ci fanno i cittadini ma queste risposte dobbiamo darle ai cittadini come le dai? non buttandoci più benzina sul fuoco facendo finire l'emergenza istituendo una commissione in maniera seria ascoltare le persone tutti il presidente dei consorzi di bonifica i parlamentari per sapere cosa fa il governo nazionale le associazioni di volontariato i cittadini e capire cosa è successo ricostruire un percorso e dare a questi cittadini quelle risposte in maniera seria che ci chiedevano in questi giorni è giusto capire come ha funzionato l'allerta è giusto capire questo dibattito che ancora oggi sta sulla stampa sta all'interno delle aule di consigli comunali di consiglio regionale sui cosiddetti colori dell'allerta ma soprattutto capire come ha funzionato e sia funzionato la macchina della protezione civile tutto il tema che a noi sta particolarmente a cuore che è quello dei consorzi di bonifica quindi se erano state o no effettuate tutte le manutenzioni perlomeno ordinarie nei territori convolti appunto dell'alluvione e se perché qui si dice la regione toscana ha investito tantissime risorse per il rischio idrogeologico se quelle risorse veramente sul punto di vista straordinario erano o no e sono state o no investite in toscana non per cercare la responsabilità di qualcuno quello non spetta il consiglio regionale ho letto che già alcune procure alcune magistrature stanno indagando sui responsabili quello che è un percorso che sarà a sé stante però per capire se la macchina amministrativa della regione toscana ha funzionato e cosa si può fare per evitare che tutto ciò si ripeta di nuovo c'è da sottolineare l'atteggiamento e il confronto al dibattito costruttivo che si è svolto in consiglio quindi il consiglio tutto maggioranza e opposizione ha tenuto un atteggiamento consono di solidarietà di rilievo relativamente a questa tragedia che è accaduta in alcune parti della nostra regione sono stati approvati alla fine di questo dibattito diversi atti in maniera unanime sia presentati dalla maggioranza che dall'opposizione alcuni sono stati rinviati in commissione perché hanno bisogno di approfondimenti e di un ragionamento maggiormente articolato tra gli atti approvati ovviamente la nostra risoluzione che oltre ad un ringraziamento al presidente Gianni ora commissario per quanto riguarda la situazione di crisi all'assessore Monni ma con loro a tutta la protezione civile le forze dell'ordine i vigili del fuoco tutti i volontari tra i quali questi straordinari giovani molti studenti che da subito si sono presentati e si stanno presentando per aiutare in quelle che sono le operazioni ora maggiormente necessarie per tornare alla normalità quindi la nostra richiesta è indirizzata al sostegno nei confronti del presidente Gianni che è appunto il commissario in questo momento per la situazione di crisi affinché possa svolgere con la maggiore forza la maggiore serenità tutte quelle che sono le operazioni a sostegno delle imprese e delle famiglie per far ripartire le lavorazioni per sgomberare le strade per smaltire i rifiuti la Toscana ha fatto la Toscana c'è un atto unitario votato all'unale minimità per me è una soddisfazione che porta alla mia prima firma un'intuizione quella di tenere insieme tutte le forze politiche perché si potesse chiedere al governo di inserire anche le province di Lucca di Massacarrara e parte della provincia di Arezzo nella dichiarazione di stato di emergenza è evidente che ci sono una modalità una modalità differente di interventi di danni subite dalla popolazione la differenza la faranno le schede ovviamente che se legneranno le difficoltà percepite dai singoli territori però è importante che tutti i partiti non si dividessero su questo su questo aspetto e della Toscana arrivasse una voce unanime il voto è rimasto unanime e compatto e questo credo che sia stato la cosa più importante un atto che quindi porta alla firma dei principali capogruppo presenti e dei presidenti dei gruppi del consiglio regionale della Toscana quindi un appello forte che dà forza al nostro presidente Eugenio Giano di relazionarsi con Curzio con la protezione civile con il quale abbiamo già informato e attivato una relazione diretta anche personale per il tramite della coordinatrice nazionale in questo caso del mio partito della Paita vengono confermate tutte le ipotesi più drammatiche che scienziati ed esperti da decenni ci suggeriscono per cercare di cambiare l'approccio e il trend anche alle leggi che noi produciamo e fondamentalmente che gli eventi sono sempre più estremi sempre meno controllabili la prevenzione diventa fondamentale ma soprattutto dobbiamo preparare il nostro territorio a non subire danni eccessivi per quelli che poi sono gli eventi estremi e da questo punto di vista dobbiamo dire che lo smantellamento che negli anni si è visto della legge 65 del 2014 la famosa legge marzo non depone a favore di questa regione l'altra riflessione è sul reticolo minore che sicuramente è quello che ha dato maggiori problemi è il più difficilmente controllabile e che richiede non soltanto degli investimenti ma anche una previsione di minor consumo del suolo che a questo punto non è più rimandabile e dopo quest'ampia pagina dedicata ovviamente alla drammatica alluvione che ha colpito la Toscana alleggeriamo un po' gli argomenti parlando di arte e di cultura con una mostra particolare nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso esposti infatti i sogni toscani di Paolo Soleil I sogni toscani di Paolo Soleil in mostra nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso fino al 18 novembre il percorso si struttura in tre diverse sezioni la prima legata ai disegni agli schizzi realizzati dall'artista nel periodo dall'infanzia all'adolescenza durante la quale ha mosso i primi passi la seconda sezione dedicata invece alle opere della maturità in cui ha saputo mescolare le conoscenze acquisite come architetto e illustratore alla sua arte infine la terza parte quella del sogno toscano che ha coinciso con la possibilità di potersi dedicare esclusivamente alla sua carriera creativa che è contraddistinta da paesaggi e scorci della sua amata regione di appartenenza questo Soleil 70 un po' scherzando rappresenta i 70 anni di carriera perché io qui presento anche i miei primi scarabocchi fatti quando avevo praticamente un anno sugli appunti di mio padre e poi ho sempre ho sempre dipinto e ho sempre lavorato col colore eccetera perché l'arte è una compagna di vita soprattutto per tutti anche per me e quindi qui ho presento in effetti un po' le primissime cose fino a quelle che naturalmente ora faccio col nome di Paolo Soleil ormai da 7 anni perché questa è ormai la mia attività unica attività a cui mi dedico con grande passione quindi è un po' un percorso di vita 70 per me sono gli anni e anche però il colore e la frequentazione diciamo della creatività artistica racconta quello che è stato il percorso di vita e di carriera di Paolo Soleil perché la sua carriera non può essere scissa dal percorso artistico da un lato sottolineando questo dualismo da un lato la parte tecnica matematica legata alla sua professione di architetto e dall'altro invece questa necessità di evadere e di trovare sfogo alla sua emotività e alla sua creatività nell'arte un percorso che lo ha accompagnato per tutta la vita e questo è proprio quello che vediamo in questa mostra e questi erano i temi principali della puntata odierna della Voce del Consiglio l'appuntamento con i principali temi trattati dall'Assemblea Toscana torna la prossima settimana ovviamente su RTV 38 grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci a tutti a tutti